Prosegue l'ondata estiva di Covid con 17.000 nuovi casi registrati nell'ultima settimana. Lui indica il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. L'indice di trasmissibilità calcolato con dati aggiornati al 31 luglio 2024 e basato sui casi con ricovero ospedaliero al 23 luglio 2024 è pari a 1,19, sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente. Secondo il monitoraggio, al 31 luglio l'occupazione dei posti letto in area medica è pari al 3%, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente. In lieve aumento anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva pari allo 0,6% rispetto alla settimana precedente. I tassi di ospedalizzazione e mortalità sono più elevati nelle fasce di età più alte. L'incidenza di casi di Covid-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 25 luglio 2024-31 luglio 2024 è pari a 29 casi per 100.000 abitanti, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente pur rimanendo bassa. L'incidenza settimanale dei casi diagnosticati e segnalati risulta invece in lieve aumento nella maggior parte delle regioni rispetto alla settimana precedente.